Da giorni la città di Bitonto è al centro della cronaca dopo l'operazione d'inizio settimana che ha portato all'arresto di 43 persone per traffico di droga e il sequestro di beni per 300 mila euro al boss Domenico Conte eseguito nella giornata di ieri arrivano con danne definitive con contestuali ordini di carcerazione per nove affiliati che hanno dato vita a cruenti scontri tra clan rivali e che per anni si sono contesi il controllo del territorio per lo spaccio di stupefacenti. Quattro condanne sono riferite i primi contrasti sviluppatisi all'interno della criminalità bitontina tra l'estate e l'autunno del 2015. Si era da poco concretizzata la scissione all'interno del gruppo Conte con il passaggio di alcuni elementi nelle fila dell'avverso gruppo di Cataldo e in città si registrarono diverse sparatorie. Il botte risposta tra i due clan ebbe il suo culmine nella serata del 18 ottobre 2015 quando dei killer armati tentarono di assassinare Vito Antonio Tarullo poi diventato collaboratore di giustizia rintracciato a pochi metri dall'una parca allestito per la festa patronale dei Santi Medici. Nei suoi confronti vennero esplossi numerosi colpi di pistola scatenando il panico tra i presenti. Le altre cinque condanne invece sono riferite all'efferato omicidio di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia uccisa da proiettili vaganti il 30 dicembre 2017. Il fatto di sangue è stato inquadrato dagli inquirenti nella guerra tra i clan Conte e Cipriano che si contendevano le piazze di spaccio bitontine. Le pene inflitte ai nuove responsabili oscillano dai vent'anni per il tentato omicidio e la di armi ai due anni per le minacce. Tutti episodi aggravati dal metodo mafioso.